Certo, grazie, grazie a chi ha un ingegno, nonno di tutti, ma quante ne ho! Sembra la nonna di Riana, sembra, sembra i Morandi La classifica, Milan in testa con 50 punti Ma adesso ti butto fuori, capellino rosso Lui me ne dà quando non hai in quadro in testa Milan 50 punti, in testa la classifica, la Juventus segue con 49 Ma ricordiamo che la Juventus deve recuperare una partita con il Bologna Poi l'Udinese e la Lazio, come giustamente anticipava Reia, sono al terzo posto Pagliate con 42 punti Roma 38, Napoli 37, Inter 36, Palermo 34, Cagliari 31 Chevo Genova 30, Fiorentina 28 e va avanti tu Non c'è nessuno al mondo Parma 28, Al-Taranta 28, Catania 27, Bologna 25, Ciena 23, Lecce 21, Novara 17, Cesena 16 Ma con una partita in meno, quindi Novara è ultimo E allora andiamo a sentire le interviste anche da Udine Con Aurelio Capaldi cominciamo con Guidolin Emiliano Nondonico, abbiamo visto Guidolin nervoso in campo, l'abbiamo visto invece adesso come sempre molto filosofico e pacato Dice giustamente Guidolin raccoglieremo quello che meritiamo, una filosofia di buon senso Stasera abbiamo visto prima Ranieri, dopo Reia che ha preso 5 gol, Guidolin che è uscito incavolato Come un attimo dopo tutto rientra nella notte Perché siete bravi a mettervi la maschera o bravi a trattenere le emozioni? Sicuramente siamo molto bravi a non far trasparire quello che sentiamo dentro Soprattutto i momenti particolari Il mestiere dell'allenatore non è semplice come sembra Per quello ho detto a Reia quanto tempo ci metti a smaltire una delusione così C'è la partita giovedì e per giovedì bisogna smaltire tutto, volente o nolente Per ricaricarsi pure? Perché è chiaro che la squadra si ricarica se tu ti ricarichi Se tu sei come Gene Gnocchi vai a allenare le galline Ma non dire cretinate per favore Quante volte mai allenato? Quattro Mai allenato cinque volte, non ti ho mai deluso, dai E gli è bastato E poi tu sei un gran paraculo Non dire parolacce Non siamo in altre trasmissioni dove girano le parolacce E qui nel mio studio non si dicono La signora Franca deve andare a letto, scusa Ma tu hai fatto un provino all'Albino Leff No, ne ho fatti quattro o cinque, mi ha fatto fare quattro o cinque provini Poi non mi ha preso Continuava a provinare È il destino dei grandi artisti Come sono andati questi provini? Lui era bravo ma lento Te lo dà al cinque Bravo ma lento Proprio lento Si vede che è un po' bolso Lento anche nel leggere la partita Sai che cosa c'ha lui? Lui c'ha questo Lui porta gli allenamenti Porta dieci salami L'ho detto che però Insomma salami non fa sempre bene Poi grassi Io sono venuto a Firenze Avevi salami Ad Albino Leff Ma anche adesso a Novara lo porto Lo so Porti salami Solo che te lo fa mangiare Prima della partita Però forza Se ne portava uno noi Durante i servizi No lui invece mi ha portato il grano Il culatello Il culatello C'è differenza tra salami e culatello No assolutamente Sarà meglio salami Non sarà meglio salami Non ti baghiamo No vado a macchina Sarà meglio salami Sarà meglio salami Salami con l'aglio Salami con l'aglio Salami con l'aglio L'aglio Cremonese Piero di aglio Mi manda un programma di cucina Siete pronti per un nuovo format Ballardini con Capaldi Invece volevo chiedere Ad Emiliano Che prima parlava di allenare le galline Siccome Sì no Appunto lui deve allenare le galline Siccome abbiamo due galletti Ma come stai dicendo? Due galletti che sono Due tuoi colleghi molto giovani E sono conte e allegri Però a loro modo sono due galletti Che cosa ti ispirano questi due galletti? Penso che per voi È una buona cosa Che ci siano queste Spunti nuovi Questi spunti un po' con l'acqua Così si potrebbe girare sopra Io vi voglio dire Voglio dire a livello di tattica Che c'è una grande differenza Tra il Milan L'Inter E la Juve Ma canta c'è anche qualcosa Tanto che c'è il microfono Sanremo viene dopo Ma viene dopo la domenica sportiva Cioè il Milan è l'unica squadra italiana Che per vincere deve fare la partita Perché l'Inter ha vinto il derby col Milan? Perché il Milan ha fatto la partita E l'Inter ha giocato di conseguenza La Juventus stessa sarebbe una squadra Che gioca bene Se la partita la fanno gli altri E può ripartire Però Pirlo Il quale è un giocatore Che per giocare bene Deve far fare la partita Alla propria squadra E perciò La Juve è un po' ibrida La qualità della Juventus Proprio come tattica di gioco Il Milan quando non fa la partita La perde Perché è proprio una sua prerogativa La mancanza di Ibra Dà più responsabilità agli altri Libera tutti? E perciò no Ibra ha vinto in Champions Con Ibra in campo E la voglia forse Tanto di cappello Montonico anche di dimostrare Che anche senza Ibra Sono una squadra che vince Questo comunque ha il suo peso Sempre le motivazioni Soprattutto il fatto che Oggi ha fatto la partita Spesso e volentieri Il Milan fa la partita È difficile Quando incontri il Milan Far la partita tu E perciò è chiaro Che vai nella loro Nella loro tela E chiaramente ti fanno Ti fanno male L'Inter Prima parlavate di modulo Ma i gol che sta prendendo Sono errori individuali Non errori di modulo E perciò non penso Che la colpa sia del modulo Perché l'ho detto a te Perché l'ho detto a te Perché se no non sai niente Perché se no Abbiamo superato Perché se no dicevi Quanto era la prima di due L'Inter ha preso 34 35 gol Cioè diventa un problema serio A questo punto L'Inter ormai è dipendente Dalla coppia Samu e Lucien Devo riportare il discorso Un paragone un po' azzardato Ma insomma è anche merito tuo E mi rivolgo ad Emiliano Se Conte è diventato allenatore Più determinante Che tu possa conoscere Nel senso che È comunque la scuola Che l'ha preceduto Che ha dato dei valori Anche a questi ragazzi Che sono cresciuti In un certo tipo di calcio Tu hai comunque tracciato Nella tua lunga carriera Dei Solchi Tu Ha tanti altri Ma insomma È frutto Di quello che avete Seminato anche voi Conte L'anno scorso ha vinto Un campionato Alla grande proprio Mettendo tutto quello Che aveva di suo Nel Sena Cioè veramente Ho visto pochissime squadre Avere questa dipendenza Dall'allenatore Il Sena dell'anno scorso Aveva questa dipendenza Diretta Da Conte Come la Juve attuale Non avrei mai pensato Che un integralista Come pensavo io Come Conte Cambiasse modulo di gioco Lui è abituato Con questo 4-4-1-1 Con i due esterni Alti offensivi Sarà stato il fallimento Di Krasic Sarà stato il fallimento Di Elia Sarà stato Che gli esterni Non gli apparivano All'altezza Però questo ha cambiato Totalmente Questo Ha fatto un 4-3-3 Che sicuramente Guarda Non me l'aspettavo Visto i risultati Che aveva da sempre Ottenuto Col suo Con il suo modo Di fare il calcio Quindi si può cambiare E si deve cambiare Nel calcio Non bisogna essere Integralisti Ecco è questo Cioè l'abilità di un allenatore È quello di adattarsi Ai giocatori Che ha a disposizione Ieri come oggi Non che succeda Il contrario E quello che abbiamo Dicevamo Adesso è addirittura 3-5-2 Cioè come a Napoli Aveva fatto il 3-5-2 Cioè ha cambiato Proprio radicalmente Perché i suoi giocatori Rendono al meglio Giocando in quella maniera Ecco secondo me La bravura Di un allenatore E abbiamo intitolato Appunto il mondo di mondo Perché insomma Mondonico Fa scuola Una scuola di valori Una scuola Di idee importanti Perché quello che dice È giustissimo Bisogna adattarsi Anche alle qualità Dei calciatori Soprattutto Soprattutto Ed è un discorso Se ricordate Abbiamo fatto Inizio di campionato Sull'Inter Quando si diceva Che Gasperini Non voleva adattarsi Alle qualità Dei suoi calciatori Per poi portare avanti Una sua idea E non cambiare Quindi è tutto Abbastanza collegato Allora Si parla di allenatori Quindi fra pochissimo Vorrò proprio Ascoltare Hai capito qualcosa tu? Come non hai capito? Ma hai detto Hai fatto uno sprolopio E se non capisci Non è meglio Sembravi Celentano Io non so fare le pause però Che ho il ritmo Benissimo Tu hai capito benissimo Dimmi cosa hai capito In questo sembrava tutto collegato Ad un certo punto Che ha ragione Non sapeva cosa dire Ho capito Che ha ragione lei Tu sei veramente Una persona squale Te lo dico io Tra l'ultimo vorrò Ascolterò con interesse L'opinione Che ha mai fatto questa faccia Un grande allenatore Di grande esperienza Basta Sei buono Come Mondone Che stiamo andando a vedere La vittoria della Roma Sul Parma Con Francesca Sanipoli Impressiva Impressiva Che stiamo andando a vedere Grazie a tutti 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 Il mondo